Eccoci tornati per la seconda parte di Lunedì Sport, siamo tornati nella nostra consueta location, negli studi di Telegranda per parlare di, come abbiamo anticipato, un compleanno importante che è stato festeggiato nel weekend, il compleanno di 75 anni del Comitato di Cune del CSI, il Centro Sportivo Italiano, realtà che promuove l'attività sportiva come nel momento di aggregazione, di educazione e crescita, nel rispetto naturalmente di valori importanti. Ne parleremo insieme ad alcuni ospiti, rappresentanti di questo mondo del CSI, che ci parleranno anche dei festeggiamenti che sono svolti nel weekend, in particolare sabato. Allora cominciamo dal Presidente del CSI Cuneo, Mauro Tomatis, buonasera, e poi il Consulente ecclesiastico del CSI di Cuneo, Don Gabriele Mecca, buonasera, Luigi Mocca, Vicepresidente del CSI Cuneo ed anche responsabile dei regolamenti del calcio, buonasera, buonasera, e poi abbiamo Andrea Ballauri, che è consigliere CSI di Cuneo e fa anche parte di una delle società affiliate al CSI, cioè il Sant'Arcisio, buonasera, e vicino a lui un altro componente del storico del Sant'Arcisio, Gianluca Dadone, consigliere delegato, ma ex Presidente per tanti anni, buonasera. Buonasera. Allora, tanti rappresentanti, perché c'è tanto di cui parlare, il compleanno è davvero importante, 75 anni, e i valori che vengono promossi dal CSI attraverso lo sport sono altrettanto importanti. Allora, andiamo un po' con ordine per cercare di capire quello che è successo sabato in cui ci sono svolti questi festeggiamenti, tre momenti particolari. Prima un incontro in seminario dal titolo 75 anni di amore per lo sport, con uno sguardo al futuro, alla presenza del Presidente nazionale Vittorio Boso e di Don Alessio Albertini, che è il consulente ecclesiatico nazionale del CSI. Poi la messa ai Salesiani è, per concludere la giornata, la sera, nel Cinemateatro Don Bosco, lo spettacolo Capolavori di Mauro Berruto, che è un ex allenatore di pallavolo, ma poi e tante altre cose, divulgatore, scrittore, e questo porta adesso questo spettacolo teatrale fatto dal suo ultimo libro. Capolavori. Allora, io per cominciare chiederei a tutti, che insomma avete partecipato tutti a questi festeggiamenti, cosa vi è rimasto, visto che siamo proprio freschi di pochi giorni fa, di un paio di giorni fa, cosa vi è rimasto di questi festeggiamenti e se c'è un momento particolarmente emozionante che vi portate dietro. Presidente, partiamo da lei. È stato un piacere, è stato un piacere rappresentare il CSI in questo importante traguardo raggiunto dei 75 anni e il piacere più grande per me e la sensazione più bella è stata quella della grande partecipazione da parte dei nostri dirigenti, dei nostri allenatori, in tutti i tre momenti organizzati della nostra festa. Il piacere di incontrare così tante facce che ho conosciuto e ho avuto modo di apprezzare negli impianti sportivi durante i campionati, vederle con noi a festeggiare questo importante traguardo è stato veramente qualcosa che ricorderò per parecchio tempo. Perfetto, Don Gabriele, come avete vissuto? Come ha vissuto anche lei questa giornata? Con tanto entusiasmo. Vittorio, il Presidente nazionale e anche Don Alessio Albertini ci hanno confermato nella strada che abbiamo intrapreso in questi anni e soprattutto ci hanno dato l'entusiasmo nuovo per continuare con questo stile e con la stessa passione che tutti quelli che sono associati al CSI hanno vissuto fin qui con la stessa passione per guardare al futuro con fiducia e con speranza. E poi direi anche il momento celebrativo, l'Eucarestia che abbiamo celebrato ai Salesiani è stato un bel momento di ringraziamento, di festa e anche di solidarietà in quanto nel momento della processione offertoriale abbiamo portato all'altare insieme al pane e al vino dei palloni che verranno donati a padre Massimo Miraglio che è missionario, originario delle nostre terre ad Haiti che sta attraversando una situazione davvero non facile. Poi torniamo da lei in particolare perché è interessante parlare di questo connubio trasporto e valori anche che promuove la Chiesa che è un po' il senso del CSI e accompagnate come Chiesa da sempre il movimento del CSI. Luigi chiedo anche a lei un bilancio di questa giornata. Beh organizzare una manifestazione così non è mai facile, è ovvio che quando si arriva agli ultimi giorni hai sempre paura che magari qualcosa possa andare storto, invece io ho visto che c'è stata una buona partecipazione e penso che quello che abbiamo organizzato abbia ricevuto il pauso soprattutto dalla dirigenza nazionale che è stata molto contenta e poi il nostro Presidente si fa voler bene, quindi di conseguenza è difficile dirgli di no quando lui chiede e gli altri poi li ascoltano. Andrea? Ma io mi sono piaciuti soprattutto i due incontri, cioè l'incontro che c'è stato al pomeriggio e le testimonianze di Don Albertini e anche del Presidente nazionale del CSI sono veramente state le belle. Mi è piaciuto perché c'è un raffronto proprio tra la realtà nostra comunque qua di Cuneo e quello che è il pensiero a livello nazionale, diciamo. La celebrazione mi è piaciuta anche molto, purtroppo non sono riuscito a partecipare all'incontro di Berluto, però mi hanno detto che è stato anche quello molto interessante. Ma tra poco manderemo in onda un'intervista in cui ti riassumo un po' quello che è accaduto, quindi risolviamo questo problema. Gianluca, chiudiamo con te questo primo intervento. Io voglio ringraziare il Comitato CSI di Cuneo per l'organizzazione di questo evento, per l'invito a tutte le società. 75 anni è un bel traguardo, noi siamo fieri di farne parte da 63 e questa giornata è stata meravigliosa nei tre momenti. A me è piaciuto molto il momento formativo del pomeriggio e tra le pillole che ricordo con maggior affetto lo spunto del continuare ad allenare gli scarti, permettetemi questa citazione. Tutti i ragazzi che non diventano campioni in Serie A alla fine, il 99% degli sportivi sono scarti e noi sul territorio facciamo sport per tutti e quindi portiamo avanti un messaggio di educazione e di sport insieme. E senza volerlo mi hai fatto un assist perfetto, visto che si parla anche di sport e anche di calcio perché Mauro Berruto, la cui intervista la mandiamo in onda tra pochi secondi, parla proprio in un passaggio di come anche quando si fa sport a livello non altissimo sia importante comunque pensare in grande e godersi quella che lui definisce la fatica, il piacere anche di allenarsi e faticare. Noi l'abbiamo intervistato e non ha parlato solo di questo, ha parlato anche di tanti altri spunti, l'ascoltiamo insieme se la regge è pronta e poi torniamo per commentarla. Mauro Berruto, grande ospite di questi festeggiamenti per i 75 anni del CSI di Cuneo, poi parliamo anche di tutte le sue attività, ma partire proprio da questo, dalla sua presenza per i 75 anni del CSI. Cosa significa per lei che emozione anche essere qua a festeggiare un compleanno importante di un'istituzione che promuove valori davvero significativi? Tanto Cuneo è una città che come immaginerete non mi vede indifferente, è una città che ho frequentato tantissimi anni per ragioni pallavolistiche, è sempre stato difficilissimo ed entusiasmante giocare in questa città, quindi ci sono dei ricordi meravigliosi. In più c'è un compleanno da festeggiare che con grande piacere vengo, contribuisco a festeggiare attraverso questo lavoro che portiamo in scena oggi e domani, che è un lavoro che ha l'obiettivo di parlare di sport in un modo un po' meno convenzionale del solito, quindi intrecciarlo con altri territori che apparentemente sembrano lontani come quello della musica, dell'arte, della letteratura. Ecco il concetto di questo spettacolo che riprende il suo libro è proprio quello di paragonare, di mettere sullo stesso piano i capolavori, che è il titolo, quelli sportivi come quelli dell'arte, della cultura. Come nasce questa idea? Ci vuole spiegare perché possono essere paragonati questi capolavori? Perché sono capolavori tutte le situazioni in cui qualcuno riesce a trasformare un potenziale in una prestazione di eccellenza. Quella prestazione può essere una medaglia olimpica, può essere un quadro da esporre in un museo, può essere un libro che vince un premio letterario, non c'è differenza. Quando quel processo si compie, quando tutto il potenziale di un atleta, di una squadra, di un individuo, riesce a trasformarsi in performance, allora si è in quel territorio e questa cosa certamente succede nello sport così come nell'arte. La conosce naturalmente come allenatore di pallavolo, poi sappiamo che è lavorato in filosofia, fa questi spettacoli teatrali, scrive i libri, insomma davvero molto eclettico, come si riesce ad essere così sul pezzo, su tutti questi campi e qual è la parte che le piace di più, quello dove davvero in futuro anche vuole concentrarsi. Certamente c'è una caratteristica che per me, io credo sia una qualità, è della curiosità, considero la curiosità qualcosa di utile e di importante anche per mantenere molto sveglio il cervello, non so come dire. Io ho passato quasi 30 anni della mia vita su campi di pallavolo, l'ho fatto con enorme orgoglio, con grande piacere, però anche quando allenavo a pallavolo in realtà qualche escursione in qualche altro territorio mi piaceva conservarla perché era un modo, credo, per fare anche meglio l'allenatore. Sono arrivato a fare quel mestiere da un giro un po' lungo e un po' diverso dal normale e non tornerò indietro adesso a 50 anni. Per ciò che riguarda la parte della domanda che è quella su cosa farò da grande, non lo so e sono felice di non saperlo, nel senso che adesso ci sono tante cose, tanti progetti in corso, non c'è dubbio che lo sport eserciti su di me un fascino particolare, non ho mai escluso di tornarci anche in maniera definitiva, importante e vediamo, non faccio in questo momento previsioni da questo punto di vista. Un'ultimissima cosa che riguarda appunto lo sport, cosa può consigliare a dei giovani che si affacciano al mondo sportivo e parlando in particolare di CSI anche a magari chi non potrà mai diventare magari un campione, arrivare a fare il professionismo ma semplicemente piace giocare, praticare sport o anche allenare, visto anche la sua esperienza di allenatore? Mi viene da consigliare prima di tutto comunque di pensare in grande, io ho incominciato, non è leggenda metropolitana, ho incominciato ad allenare in un oratorio a Torino in Borgo San Paolo e non avrei mai immaginato di poter un giorno arrivare, non l'ho mai immaginato non lo so, diciamo che era un sogno che andava veramente oltre quello che tutti mi dicevano invitandomi a stare con i piedi per terra, invece bisogna segnare in grande comunque perché non si sa mai quanto tempo passa dalla semina al raccolto e poi bisogna imparare dallo sport la bellezza della fatica, questo è il secondo consiglio, godere e godersi la bellezza del fare fatica perché la fatica è una medicina. Allora, tantissimi spunti, tantissime cose interessanti di un personaggio davvero molto interessante ed eclettico, Presidente, intanto le chiedo cosa ha significato avere l'onore di poter feseggiare questi 75 anni con un personaggio così, cosa vi ha lasciato? Ma sicuramente Mauro Berrutto è un amico del CSI, era già venuto a trovarci in occasione del settantesimo compleanno e la cosa che mi colpisce sempre di lui è come riesce a avvicinare due visioni di sport così lontani come possono essere il mondo professionistico e quello dilettantistico. Quando le persone sono di spessore e guardano lontano fanno avvicinare anche mondi così distanti perché lo sport è quello vero, quello che predica e dice nei suoi incontri, adesso nel suo spettacolo Mauro Berrutto, ed è molto vicino all'idea ai valori del CSI, mi piace molto quando parla di fatica, quando parla di fatica e di sogno. Ecco, il CSI è uno scatto ancora superiore, una pretesa superiore, chiede di, proprio in occasione dei 75 anni abbiamo pensato uno slogan, 75 anni di amore per lo sport. Ecco, dobbiamo insegnare ad amare lo sport ai giovani, fare questo scatto, dare la possibilità all'insegnamento ad amare lo sport in generale, questo sarebbe una vittoria enorme per il CSI riuscissimo a trasmettere questo amore. Mi sembra che siate già sulla buona strada a buon punto per quello che state facendo. Don Gabriele, io volevo coinvolgere anche lei su alcuni passaggi di quello che ha detto Berrutto, in particolare ha fatto cenno anche il Presidente, la parte in cui dice pensare in grande e godersi la fatica, godersi anche i momenti in cui ci si allena e si fa fatica, si hanno anche delle difficoltà che può un po', si può un po' rivedere in questo anche qualcosa degli insegnamenti che ci dà la Chiesa, giusto? Ma mi sento di rispondere così, sovente Papa Francesco usa questa espressione, essere chiese in uscita, nel panorama ecclesiale cunese penso che il Centro Sportivo Italiano offre una bella immagine di chiese in uscita che si impegna nell'educazione delle giovani generazioni, soprattutto per collegarci al titolo dello spettacolo di Berrutto, per aiutare i giovani a fare della propria vita un capolavoro, no? E il CSI quotidianamente facendo sport come si impegna ad aiutare i giovani a fare della propria vita un capolavoro? Aiutandoli a dare il meglio di sé, sognando di essere dei campioni ma cercando soprattutto nella quotidianità di sopperare i propri limiti per fare della propria vita un capolavoro e soprattutto per aprirsi all'accoglienza e al fare gioco di squadra. Credo che questi valori siano tipicamente cristiani ed evangelici ed ecclesiali. Assolutamente, il mondo della chiesa l'abbiamo detto ha sempre accompagnato il percorso del CSI, io le chiedo come si conciliano due attività che per certi aspetti possono anche essere viste come lontane, lo sport ha anche praticato, abbiamo detto che può anche essere praticato a tanti livelli, ma poi quando si va in campo, quando si fa una gara, una competizione si vuole superare l'avversario, a volte si arriva anche ad avere atteggiamenti sopra le righe, quindi questo agonismo magari a volte anche esasperato con questi insegnamenti, questi valori della chiesa, sono così lontani, si conciliano come? È stato bellissimo un passaggio dell'intervento di Don Albertini, diceva facendo sport non basta partecipare, perché tutti hanno come obiettivo vincere, si può vincere andando oltre regole, ma si può vincere con stile, rispettando le regole, rispettando l'avversario e soprattutto rispettando anche le scelte dell'arbitro, penso che fare sport in CSI significa tutte queste cose. Sembra davvero che abbiamo preparato la trasmissione da tantissimo tempo, perché anche lei mi ha fatto un assist perfetto, perché voglio coinvolgere Luigi Moccia proprio sugli arbitri, sull'organizzazione in particolare, lei si occupa dell'organizzazione e del regolamento di calcio, quindi degli arbitri di calcio, perché senza gli arbitri ovviamente tutto il giochino di cui stiamo parlando non sarebbe possibile e ci vuole qualcuno disposto a farlo, come si riesce a trovarli e a formarli? Riuscire a trovare e a formarli non è facile, anche perché chi affronta questa attività sa già in primis che sarà il capo espiatorio e il risultato della gara. Come in tutti gli sport. Esatto, i regolamenti sono sempre in continua evoluzione, tranne qualcuno che è un po' fermo, tipo per esempio il regolamento del calcio a 5, che la Futsal non fa aggiornamenti dal 2014, noi abbiamo un regolamento del calcio a 11 che negli ultimi tre anni è stato rivisto ben tre volte, quindi bisogna tutte le volte al di là formare l'arbitro sulla base del regolamento in vigore per quell'anno. In più poi bisogna aggiornarlo ogni qualvolta escono delle circolari, però noi abbiamo una differenza ancora dalla federazione, perché noi oltre al regolamento della FIGC il nostro sport si basa su un regolamento nazionale che è il sport in regola, che in alcuni punti sostituisce proprio, si integra con il regolamento della federazione, in alcuni punti lo sostituisce, oltre poi a quello che magari può nascere nel territorio che va ad integrare ancora questo, quindi un arbitro del CSI invece di un solo regolamento ne deve studiare tre e questo frena un po' chi ha questa passione che magari poi alla fine quando uno si mette lì capisce che è molto semplice e si può fare. Poi è ovvio che chi fa la partita sono sempre i calciatori. Certo, e a volte purtroppo si dimenticano che l'arbitro è fondamentale e bisognerebbe uno a fianco di un calciatore e lui lo sa bene, certo che a volte anche ci sono calciatori che comprendono a volte anche la difficoltà del momento. Certo, è sempre bene quando si riesce a aiutargli gli arbitri perché sono fondamentali, poi a volte non si riesce, ma insomma fa anche parte questo dell'agonismo e del gioco. Gianluca vengo da te per parlare della vostra esperienza a Sant'Arciso, hai fatto per 15 anni nel Presidente, adesso sei sempre dentro la società, il Presidente lo fa qualcun altro. A me piace molto sottolineare il motto che mi hai detto prima, che vi accompagna, che secondo me riassume perfettamente quello che stiamo dicendo dei valori del CSI ed è educare a vivere e se capita anche a vincere. Ce lo vuoi spiegare? Questo è il nostro messaggio dal 1957 quando è stata fondata la polisportiva Sant'Arciso, siamo legati all'oratorio del Cuore Immacolato di Cuneo ed è una cosa a cui teniamo molto perché al bambino, al ragazzo il primo messaggio che deve passare è creare e formare l'uomo e poi l'atleta, quindi gli aspetti tecnici e atletici sono importanti, però per noi è fondamentale creare un gruppo, l'educazione, il rispetto delle regole, lo facciamo con tanto amore, con tanta forza, con tanta fatica, per citare Mauro e per citare Berruto, ringraziamo le altre società sportive che incontriamo e che abbiamo visto anche alla festa, quindi è anche un momento bello vedere gli amici avversari in un giorno di festa e ringraziamo soprattutto i tanti allenatori e dirigenti che si impegnano tutti i giorni nella nostra struttura e in tante altre gratuitamente dando una parte del loro tempo libero per i ragazzi, per gli altri che poi alla fine sono i protagonisti della nostra attività. Ecco assolutamente, è stato bene a sottolineare l'importanza degli allenatori, uno è proprio qua perché Andrea oltre ad essere anche un calciatore, come ci diceva Luigi, è anche un allenatore del Sant'Arcisio, forse si pensa che sia un impegno e poi alla fine si riceve anche tanto. Sì, si riceve anche tanto, come diceva lui bene, noi siamo allenatori e soprattutto siamo educatori, soprattutto verso i ragazzi un pochettino più giovani ma anche non solo loro. Io ho provato tutti i due lati, quindi da giocatore e da allenatore e quando fai poi l'allenatore capisci quando ti trovi a dover gestire 11 ragazzi in campo e altre tanti magari in panchina che non è semplice farli andare d'accordo ma soprattutto fargli capire che il risultato non è sempre la vittoria, cioè si guarda la vittoria ma la cosa fondamentale secondo me che deve passare come spirito del CSI e partecipare alla gara come squadra, nel senso che si vince come squadra e si deve soprattutto divertire come squadra. Cioè io quando faccio allenatore la stessa cosa la provo da giocatore. Certo, certo. Presidente siamo quasi in chiusura però ci siamo forse dimenticati, mi sono dimenticato di chiedere di spiegarci quante realtà sono rappresentate nel CSI, diversi sport, se vuole darci anche qualche numero, qualche dato che può rendere un po' insomma, farci capire quanto è grande questo movimento. Allora il CSI di Kuno conta circa 12.000 tesserati, 150 società sportive, all'incirca 500 squadre di calcio a 5, calcio a 7, calcio a 11, pallavolo e pallacanestro di tutte le categorie di età e segue anche gli sport individuali come lo sci, la ginnastica artistica, ginnastica ritmica, nuoto. Un ventaglio di proposte sportive è sicuramente importante, difficile da gestire, con grande fatica cerchiamo di portare avanti la nostra visione di sport per tutti e ci tengo anche a ringraziare in questo momento tutti i dirigenti, tutti gli allenatori delle nostre società sportive, il nostro comitato, i nostri consiglieri per il grande lavoro svolto a titolo gratuito. Ecco, questo è importante. 75 anni e adesso si guarda, finito questa organizzazione difficilissima per 75 anni, si guarda al futuro, quali sono le sfide nuove brevemente? La sfida più grande credo che sia continuare con questa visione, in un mondo dove tutto sembra cambiare in continuazione, che la novità, il nuovo sia la cosa più importante, e l'ossessione continua nel cercare il nuovo, vogliamo andare controcorrente e provare in un mondo dove i valori sono evaporati, a continuare a proporre il nostro tipo di attività. Attraverso lo sport, bellissimo, un bel messaggio per concludere questa puntata, potremmo parlare ancora per tanto tempo, ma purtroppo il tempo è scaduto, io quindi vi ringrazio, faccio i complimenti per queste organizzazioni, per questi 65 anni, con l'augurio di viverne ancora tanti, allora grazie al presidente del CSI Cuneo, Mauro Tomatis, grazie a Don Gabriele Mecca, consulente ecclesiastico del CSI Cuneo, grazie, grazie a Luigi Moccia, vicepresidente e anche responsabile di regolamenti di calcio, grazie, e i due rappresentanti del Sant'Arcisio, Gianluca Dadone, grazie, e Andrea Ballardi, ho mandato un po' in difficoltà la regia perché ho invertito l'ordine, ma insomma, grazie naturalmente e in bocca al lupo per il proseguo delle attività che porterete avanti sicuramente con grande successo. Noi ci fermiamo qui, vi ricordo ancora l'appuntamento, si parla sempre di sport di domani, martedì, serata dedicata alla pallavolo, alle 21 la sintesi della partita di serie A2 maschile Mondovì a Brescia, l'ennesima vittoria di Mondovì al tiebreak, Mondovì che sta davvero vivendo un momento magico. Grazie, noi con il lunedì sport ci vediamo la prossima settimana, buona serata. Mondovì a Brescia